Musica Colgo l'occasione in questo ambito di ringraziare la podistica San Salvo che ci ha onorato di questo premio intitolato Fornarola d'Oviglio. Papà aveva questa grande passione che era la maratona e lui ha sempre corso, ha appena finito le attività agonistiche che prima faceva il calciatore e ha fatto anche l'allenatore di calcio. Poi lui si è dato alla maratona fondando in primo luogo un gruppo sportivo che sono i lupi di Abruzzo ad Atessa e poi man mano si è andato in maniera amatoriale, non in maniera professionistica perché ha corso fino a 81 anni e ha fatto praticamente più di 120 maratone e innumerevoli gare, diciamo gareggiavo quasi tutte le domeniche. Ma in particolar modo ha fatto sei volte la Firenze-Faenza, la 100 km di Firenze-Faenza e poi otto, come lei mi diceva, otto maratone di New York classificando il primo della sua categoria e ovviamente prima degli italiani e prima del suo, perché ovviamente gareggiava nella categoria degli 81 anni. Perciò lui aveva questa grande passione e è morto praticamente come voleva lui, in una gara all'arrivo salutando tutta la sua famiglia perché la famiglia era praticamente di tutti i podisti, tutte le persone che amavano questo sport e che lui ha fatto tanti proseguiti, perciò ha vissuto come voleva lui, è morto come voleva lui. Importante quindi dare questo premio al migliore d'Abruzzo che arriverà alla maratona, insomma al campionato italiano FIDAL una grandissima manifestazione, a prescindere da quale sarà il vincitore poi assoluto del torneo della manifestazione però premiare il migliore e la migliore abruzzese ricordando proprio suo papà. Questo è solo un piccolo passo perché lei sta portando avanti tante piccole cose che suo papà aveva messo in atto e tra questo ci sono anche forse delle poesie proprio dedicate anche alla podistica. Papà oltre a me e mia sorella aveva altri due figli. Che era il podismo e era l'aves. Papà ha fondato ad Atessa sia il gruppo podistico come ho detto nell'Europa di Abruzzo e anche l'aves proprio comunale di Atessa. Perciò sia sul sociale che anche sullo sportivo diciamo si è veramente impegnato. E poi si dilettava dal punto di vista culturale, si dilettava a fare poesie. Più ne ha fatto cinque volte e ha organizzato il premio di poesia a Casalbordino. Perciò è rimpegnato anche dal punto di vista culturale nella fattispecie delle poesie. Oltre ad aver fatto tre libri, due su Casalbordino e uno su Atessa. Beh sicuramente sì, Metamer da ormai da dieci anni lega il suo nome a questo evento che fa parte ormai del nostro DNA. È il nostro primo appuntamento di sponsorizzazione nei piani di comunicazione dell'azienda perché riteniamo fondamentale un'azienda come la nostra che opera su un territorio ricambiare e prendere un impegno un po' più di carattere civico verso il territorio dove appunto opera. C'è un significato in più con il premio Forneroli per il fatto che si premia la memoria di un abruzzese quindi di un essere umano e che la stessa filosofia sulla quale basa Metamer tutta la sua attività in termini ovviamente di clientela molto più effimero però dando sempre massima attenzione ai nostri clienti e quindi mettere al centro le esigenze e i bisogni dei nostri clienti. Duilio Fornarola, tutti lo conoscono era un nostro grandissimo amico veniva, partecipava tutti gli anni a San Salvo al Memorial di Nopo Tarivo simpaticissimo, era un grande amico sempre sorridente e amava questo sport. Per noi come Podistica San Salvo era doveroso dare un premio al primo abruzzese che taglia il traguardo al campionato italiano diciamo è stata la ciliegina sulla torta di questo campionato italiano dare questo premio come riconoscimento a un grandissimo atleta che ci ha lasciato mentre faceva quello che amava di più nella vita correre. C'ero anche io quel giorno a Pescara quando ci ha lasciato sono rimasto diciamo sconvolto e quando Pasqualino mi ha proposto di dare questo premio non ci ho pensato due volte sono stato felicissimo e sono onorato di dare questo premio in onore di Duilio Fornarola. Sicuramente è soddisfacente in quanto andiamo a premiare uno sportivo vero che l'ha sempre fatto per quando mi risulta per passione, per amore per lo sport non certamente per i soldi. Grazie. 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 Grazie.